3, 2, 1 Forza, signor Grey! Sembra che abbia vinto il mio cavallo. Non vedo cosa potrebbe essere di ostacolo a un matrimonio singolarmente felice. Al duca e alla duchessa. Che cosa vogliono? Vedere me. E la mia consorte, naturalmente. Ho molti difetti. Non ultimo la mia ben nota capacità di attrarre l'attenzione. Il signor George Grey! Il concetto di libertà è un assoluto. Lascerai perdere la politica e il gioco. Ti dedicherai ai tuoi compiti, dandogli al più presto un'erede. Il duca di Devonshire deve essere il solo uomo in Inghilterra a non amare sua moglie. Che sta succedendo? Niente che vi riguardi. Signor Grey! Vostra grazia. È innamorato di voi. Pensate a me quando non siamo insieme. Penso a voi continuamente. Due cose chiedevo quando ci siamo sposati. Lealtà e avere un erede maschio! La cosa è andata ormai troppo oltre. Siete dunque determinata a rendermi ridicolo davanti a tutti? Devi venire via con me. Una donna libera! Vieni, andiamocene ora! Giordana! Non rinuncerò a lui! Questo sarà lo sbaglio della vostra vita. No, lo sbaglio lo feci molti anni fa. Ne parla tutta Londra. Lasciate che parlino. Non potete chiedermi di combattere ciò che mi impone il cuore.